Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per giovedì 9 settembre. Nord Italia è l'ambito da un'alta pressione presente sul nord-est europeo. Un vortice di bassa pressione sulla Grecia seguita a sospingere correnti più fresche sulle regioni adriatiche meridionali. I fenomeni pochissimi, i solati temporali pomeridiani su Alpi, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise e regioni meridionali, quando dico i solati intendo dire che non necessariamente devono avvenire anche sul vostro paese, cioè i solati sono qua e là distanti l'uno dall'altro magari 20-50 chilometri. Per quanto riguarda le temperature massime, queste sono previste intorno a 27-38 gradi su Piemonte, Lombardia e Sardegna, 26-28 sul Triveneto e regioni centrali, 30-32 sull'Emilia, 24-27 sulle regioni meridionali.